le avventure di pinocchio di carlo collodi letto da libri in pillole capitolo 35 pinocchio ritrova in corpo al pesce cane chi ritrova leggete questo capitolo e lo saprete pinocchio appena che ebbe detto addio al suo buon amico tonno si mosse brancolando in mezzo a quel buio e camminando a tastoni dentro il corpo del pesce cane si avviò un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano e nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una puzzanghera d'acqua grassa e sdrucciolona e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza quaresima e più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto finché cammina cammina alla fine arrivò e quando fu arrivato che cosa trovò ve lo do a indovinare in mille trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco come se fosse di neve o di panna montata il quale se ne stava lì viascicando alcuni pesciolini vivi ma tanto vivi che alle volte mentre li mangiava gli scappavano perfino di bocca a quella vista il povero pinocchio ebbe un'allegrezza così grande e inaspettata che ci mancò un ette non cadesse in delirio voleva ridere voleva piangere voleva dire un monte di cose e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare oh bambino mio finalmente mi ho ritrovato ora poi non vi lascio più eh mai più mai più dunque l'occhi mi dicono il vero replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi dunque tu sei proprio il mio caro pinocchio sì sì sono io proprio io e voi mi avete di già perdonato non è vero oh bambino mio come siete buono e pensare che io invece oh ma sapeste quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose mi sono andate di traverso figuratevi che il giorno che voi povero bambino col vendere la vostra casacca mi compraste l'abecedario per andare a scuola io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli accessi il montone arrosto che fu quello che poi mi dette cinque monete d'oro perché le portassi a voi ma io trovai la volpe il gatto che mi condussero all'osteria del gambero rosso dove mangiarono come lupi e partito solo di notte incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro e io via e loro dietro e io via sempre loro dietro e io via finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande dov'è che la bella bambina da capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina e i medici quando mi ebbero visitato dissero subito ah se non è morto è segno che sempre vivo e allora mi scappò detta una bugia e il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera motivo per cui andai con la volpe e col gatto a sotterrare le quattro monete d'oro che una l'avevo spesa all'osteria e il pappagallo si messe a ridere e viceversa di duemila monete non trovai più nulla la quale il giudice quando seppe che ero stato derubato mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri di dove col venir via vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso alla tagliola e il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare e il serpente con la coda che gli fumava cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto e così ritornai a casa della bella bambina che era morta e il colombo vedendo che piangevo mi disse ho visto il tuo babbo che si fabbriava una barchettina per venirti a cercare e io gli dissi oh se avessi le ali anch'io e lui mi disse vuoi venire dal tuo babbo e io gli dissi magari ma chi mi ci porta e lui mi disse ti ci porto io e io gli dissi come e lui mi disse montami sulla groppa e così abbiamo volato tutta la notte poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero c'è un povero uomo in una parchetta e sta per affogare e io da lontano vi riconobbi subito perché me lo diceva il core e vi feci segno di tornare alla spiaggia ti riconobbi anch'io disse geppetto e sarei volentieri tornato alla spiaggia ma ma come fare il mare era troppo grosso e un cavallone mi arrovesciò la barchetta allora un orribile pesce cane era lì vicino appena che mi ebbe visto nell'acqua corse subito verso di me e tirata fuori la lingua mi prese pari pari e minghiotti come un tortellino di bologna e quant'è che siete chiuso qui dentro domandò pinocchio e da quel giorno in poi saranno ormai due anni due anni pinocchio mio e mi son parsi due secoli e come avete fatto a campare dove avete trovata la candela e i fiammiferi per accenderla chi ve li ha dati ora ti racconterò tutto devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile i marinai si salvarono tutti ma il bastimento colò a fondo e il solito pesce cane e quel giorno aveva un appetito eccellente dopo aver inghiottito me inghiotti anche tutto il bastimento come lo inghiotti tutto in un boccone domandò pinocchio maravigliato tutto in un boccone e risputò solamente l'albero maestro perché gli era rimasto fra i denti come una lisca per mia gran fortuna quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno ma di biscotto ossia di pane abbrustolito di bottiglie di vino d'uva secca di accio di caffè di zucchero di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera con tutta questa grazia di dio ho potuto campare ben due anni ma oggi sono agli ultimi sgoccioli oggi nella dispensa non c'è più nulla e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta e dopo e dopo caro mio rimarremo tutte e due al buio allora bambino mio disse pinocchio non c'è tempo da perdere bisogna pensare subito a fuggire a fuggire e come scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare tu parli bene ma io caro pinocchio non so nuotare e che importa voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io che sono un buon notatore vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia illusioni ragazzo mio replicò geppetto scotendo il capo e sorridendo malinconicamente ti pare gli possibile un burattino alto appena un metro come sei tu possa aver tanta forza da portarmi a noto sulle spalle provatevi e vedrete a ogni modo se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme e senza dir altro pinocchio prese in mano la candela e andando avanti per far lume disse al suo papo venite dietro a me e non abbiate paura e così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane ma giunti che furono al punto dove cominciava la spaziosa gola del mostro pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga ora bisogna sapere che il pesce cane essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore era costretto a dormire a bocca aperta per cui pinocchio affacciandosi al principio della gola e guardando in su pote vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna questo è il vero momento di scappare bisbigliò allora voltandosi al suo babbo il pesce cane dorme come un ghiro il mare è tranquillo e ci si vede come il digiorno venite dunque babbino venite dietro a me e fra poco saremo salvi detto fatto salirono su per la gola del mostro marino e arrivati in quell'immensa bocca cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone di un giardino e già stavano lì lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare quando sul più bello il pesce cane starnutì e nello starnutire dette uno scossone così violento che pinocchio e geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro nel gran durto della caduta la candela si spense e padre e figliuolo rimasero al buio e ora domandò pinocchio facendosi serio ora ragazzo mio siamo belle e perduti perché perduti datemi la mano babbino e badate di non sdrucciolare dove mi conduci e dobbiamo ritentare la fuga venite con me e non abbiate paura ciò detto pinocchio prese il suo babbo per la mano e camminando sempre in punta di piedi risalirono insieme su per la gola del mostro poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i tre filari di denti prima però di fare il gran salto il burattino disse al suo babbo montatemi a cavalluccio sulle spalle abbracciatemi forte forte al resto ci penso io appena geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo il bravo pinocchio sicuro del fatto suo si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare il mare era tranquillo come un olio la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata